E numerosi i giovani che hanno voluto partecipare attivamente alla celebrazione del 25 aprile. Lo hanno fatto attraverso un giro in bicicletta sulle strade del capologo di Regione, toccando i luoghi che ricordano il sacrificio dei partigiani molisani. I giovani di Campobasso hanno voluto essere presenti nel giorno della memoria del 25 aprile, quando, 77 anni fa, si riuscì a liberare l'Italia dal nazifascismo. Hanno voluto celebrare l'evento a loro modo, girando in bicicletta per la città, sostanto nei luoghi che ricordano i nomi dei partigiani molisani. Il loro viaggio, nella memoria, si è concluso nei pressi del murales dell'artista Croma, Claudia Romagnoli, che ricorda la banda partigiana del triventino Giovanni Porfirio. Qui dietro di me c'è il murale che ha realizzato Claudia Romagnoli l'anno scorso, in arte Croma, dove sono raffigurati Giovanni Porfirio e Mary Neiman, che hanno fatto la storia dei partigiani qui in Molise. Hanno operato dal settembre del 43 al gennaio del 44 e hanno lavorato a Trivento. Qui dietro di me questo murale ciò ricorda la morgia di Pietrafenda e l'attività che hanno svolto questi partigiani. Quest'anno è ancora più densa di significato perché siamo in guerra, l'Europa è in guerra, il mondo è in guerra e quindi mai come oggi è importante celebrare la libertà. Oggi è un giorno di festa, è un giorno di celebrazione, questo vuole essere. Il patriottismo è oggi perché la Repubblica, come la conosciamo, si è fatta oggi e quindi questa bandiera è il simbolo, uno dei simboli di questa giornata. Per questo questa festa non può essere divisiva, perché siamo tutti sotto gli stessi tre colori. Grazie. 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 Grazie.